L'accordo siglato con il Comune Istituto segue una scia che è già intrapresa dall'Agenzia regionale per il lavoro attraverso i progetti Italia-Francia-Marittimo, serve sostanzialmente per sviluppare una cultura verso le professioni nautiche e alimentare nuovi percorsi attraverso la nuova programmazione comunitaria anche diretta, quindi culmina con un evento a carattere internazionale che è un convegno che si svolgerà nel mese di settembre qua a Sintino, dove un insieme di interlocutori istituzionali e anche imprenditoriali si confrontano e si attivano verso percorsi di formazione e di innovazione sul settore della nautica. Continua il nostro lavoro, l'accordo che abbiamo fatto con l'Agenzia regionale del lavoro è un altro tassello importante sulla nostra politica contro la disoccupazione giovanile e a favore dei giovani del nostro territorio e del territorio circostante.